La morte di Enrico Mattei non è stato un incidente, è stato un assassinio. Enrico Mattei è caduto con il suo aereo nel 1962, 13 anni prima di Pasolini, nel 1962, 27 ottobre, l'aereo di Mattei cade vicino a Milano, stava arrivando da Catania. Era l'aereo personale di Mattei. Enrico Mattei era l'uomo più potente d'Italia nel momento in cui è caduto con l'aereo. In quel momento l'uomo più potente d'Italia non era un politico, era un industriale, diciamo, mettiamola così, era un imprenditore, però attenzione, non era un imprenditore privato, era un imprenditore che faceva impresa per conto dello Stato, cioè era un funzionario dello Stato. Quando è morto Mattei non aveva proprietà personali, viveva in albergo, non aveva neanche la casa. Quindi sicuramente un uomo importante, un uomo molto potente, ma potente in un modo diverso da come sono potenti gli uomini di oggi. uno che aveva costruito un impero sul petrolio. Che cosa aveva fatto di importante Mattei? Aveva metanificato l'Italia. È molto importante questo perché nel dopoguerra c'era bisogno di energia per far ripartire l'Italia. L'Italia era distrutta, io non so come fosse ridotta Valenza, ma Torino, Milano, Roma, cioè erano molto mal ridotte. Tutte le città erano molto mal ridotte. La gente si è tirata sulle maniche e hanno cominciato a ricostruire. Però per ricostruire ci voleva energia. Petrolio in Italia non ce n'è. E allora Mattei valorizza quello che abbiamo, cioè il metano. E quindi estrae il metano e costruisce la rete di distribuzione del metano. E questo è l'azione, il gesto che modifica il destino dell'Italia. Fino a quel momento lì l'Italia ha un destino di paese povero. Nel momento in cui Enrico Mattei metanifica il paese, il destino dell'Italia cambia. Lui diceva l'Italia non è un paese povero. Era uno degli slogan di Mattei. Naturalmente voi pensate, se uno smette di comprare il petrolio, perché l'Italia non proprio smette, ma ne compra di meno perché ha il metano. E il petrolio che compra in giro per il mondo non lo compra dalle grandi società americane che hanno il monopolio del petrolio, ma va a comprarlo direttamente dai paesi produttori. Capite che alle grandi major americane questo non va mica tanto bene. Non sono mica tanto d'accordo che Mattei vada direttamente per esempio dall'imperatore della Persia, dallo Shah di Persia, che sarebbe l'Iran. Pensate ad oggi i rapporti, la paura che ci fa l'Iran. Non sono d'accordo gli americani che Mattei vada direttamente a comprare il petrolio, perché se lui va a comprarlo direttamente, capite che non deve pagare la quota, non deve pagare la tangente agli americani. Insomma, paga direttamente il petrolio, lo paga molto meno. E questo è quello che fa. Ci voleva un grande coraggio per fare questo. C'è chi pensa che ci voleva troppo coraggio. Infatti vedete com'è finito Mattei. Caduto con l'aeroplano. Il 27 ottobre 1962 cade l'aereo di Mattei. 1966, quattro anni dopo, l'inchiesta sulla caduta, sul disastro dell'aereo di Mattei, si conclude con un nulla di fatto, cioè è stato un incidente. Decidono i giudici che è stato un incidente. Qui succede una cosa molto curiosa, perché nel 1966, quando decidono che si è trattato di un incidente, fanno una cosa che noi che siamo abituati a vedere CSI, i RIS, che siamo abituati che arriva la scientifica e risolve tutti i casi, è un gesto di cui capiamo subito l'assurdità. L'aereo, i pezzi di aereo di Mattei, che sono caduti, attenzione, in un raggio di due chilometri quadrati, ebbene i pezzi dell'aereo di Mattei, che erano stati recuperati, una ruota, un pezzo di fusoliera, un pezzetto d'ala, tutti messi insieme, raccolti, che cosa fanno? Finita l'inchiesta, deciso che si è trattato di un incidente, li fondono, non ci sono più. Capite che la scientifica, se uno gli dice abbiamo fuso tutti i pezzi di aereo, se quelle erano le prove, sui pezzi dell'aereo si potevano cercare le prove, capire che cosa era successo veramente. Allora torniamo al giudice Calia, il giudice di Pavia di cui vi parlavo prima, che nel 1992, attenzione, 1962, 1966 si chiude l'inchiesta, non è stato nessuno, è stato un incidente, maltempo, è vero, pioveva quella sera, 1992 si riapre l'inchiesta, perché si riapre l'inchiesta? Perché un pentito di mafia dice, Mattei non è morto per un incidente, io so i nomi, dice come Pasolini, io so i nomi, questo pentito di mafia dice che è stata la mafia ad eseguire l'assassinio, cioè a sabotare l'aereoplano per conto degli americani, cioè per conto delle grandi compagnie petrolifere americane che ovviamente avevano in grande odio Enrico Mattei, il presidente dell'ENI. Questo pentito di mafia permette al giudice di Pavia, perché il giudice di Pavia se era un pentito di mafia che parla a Palermo? Perché l'aereo di Mattei è caduto a Bascapè, non è neanche un paese, è una frazione vicino a Pavia e quindi il giudice di Pavia riapre l'inchiesta, riapre l'inchiesta e che cosa fa? La prima cosa che fa naturalmente è recuperare quello che rimane dei pezzi, non dell'aereo che è stato fuso di Mattei, recupera i pezzi quello che è rimasto, stiamo parlando di 30 anni dopo, nel 92, 30 anni dopo recuperano i pezzi e là ha un colpo di fortuna il giudice Calia, perché tra i pezzi che hanno ritrovato c'è non tutta una mano, soltanto tre dita di una mano, gli altri due dita non ci sono, non c'è tutto questo pezzo, però c'è il polso e al polso era rimasto attaccato l'orologio, un orologio Omega e quindi si può analizzare non tanto quello che è rimasto della mano, ma quello che è rimasto dell'orologio Omega e sull'orologio Omega di Mattei le lancette dell'orologio Omega di Mattei sono schiacciate sul quadrante, quel particolare schiacciamento si ottiene soltanto per esplosione, l'unica possibilità è che ci sia stata una bomba vicinissimo al polso del passeggero che era Mattei che aveva l'orologio appoggiato al cruscotto, immaginate un aereo da due posti, un solnier da due posti, scusate con i due posti, lui stava di fianco al pilota, dietro aveva altri, era un otto posti credo, se ricordo bene, dietro c'era un altro viaggiatore insieme a loro oltre al pilota, Irnerio Marcuzzi, dietro c'era anche un giornalista di Life che gli stava facendo un'intervista in aereo, la carica 30 grammi di tritolo, perché poi dal quadrante sono riusciti persino a determinare i 30 grammi, ovviamente nel 92 i mezzi sono diversi da quelli del 62, ma soprattutto hanno fatto l'indagine, hanno fatto le analisi, mentre non le avevano fatte, questo è molto importante, scoprono che sono bastati 30 grammi di tritolo per far esplodere il cruscotto dove il passeggero appoggia la mano, la carica esplosiva nascosta nel cruscotto fa esplodere il meccanismo nel momento, fa esplodere la carica esplosiva nel momento in cui il pilota aziona i carrelli per scendere, infatti il carrello viene azionato nel cielo di Bascapè, scendevano a Linate, stavano per scendere a Linate, Linate è a poche decine di chilometri da Bascapè, cioè esattamente il tempo di atterrare, non si è trattato neanche in questo caso di una morte accidentale, la morte di Pasolini non è accidentale, la morte di Mattei non è accidentale. Pasolini stava scrivendo un romanzo quando è morto che si chiamava Petrolio e Petrolio parla dell'assassinio di Mattei.